Chi corre più velocemente tra voi due? A me piacciono le maratone, quindi carugo sicuramente. Ragazzi, non c'è storia. Sulla distanza breve alla Stamilano, Maurizio, l'ho basato. Dai un voto a Monti. 4. No, 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 5. Bersani. 4. Ingiudicabile, 0. Alfano. 4 più 4, 8. Maio deve un velotto. Valotelli. 28. Io sono milanista, eccezionale, che attacco delle meraviglie. Vediamo se conosci il territorio. È più grande Caratebrianza o Ronco Briantino? Caratebrianza, ma ho conosciuto un sindaco nella provincia di Lecco di un comune di 30 abitanti, Mortirone. Caratebrianza. Dici che cosa hai fatto a Roma su temi di persona, famiglia e imprese. Potrei dire tanto, tanto, tanto come troppo spesso i politici dicono. Ma è tutto quello che abbiamo fatto è troppo poco per aiutare giovani, famiglie e imprese. Ed è per questo che dobbiamo impegnarci ancora di più. In regione ho portato avanti, peraltro è stata una mia invenzione quando ero assessore a Monza, il Fondo Nasco, ovvero un sostegno economico alle mamme che decidevano di non abortire. Una cosa bellissima, ne vado fiero. Poi mi sono occupato del cosiddetto quoziente familiare. Sostanzialmente cosa vuol dire? Che le famiglie lombarde, quelle più numerose e che hanno anziani o persone disabili in famiglia, saranno aiutate. In ultimo ho aiutato tanto i nostri carcerati con fondi e iniziative. Adesso dì una cosa a Stefano. Stefano, oltre che a fare politica e a fare il medico, e mi sembra che tu lo faccia bene, ascolta ogni tanto le canzoni e ricordati, mentre farai compagno elettorale, non c'è montagna più alta di quella che non scalerò. Non c'è scommessa più persa di quella che non giocherò. In sintesi, corri, scommetti, vai avanti e cerca di vincere e di farti eleggere. Adesso di una cosa a Lupi. Maurizio, spero che mi fai votare, ne?